Colpi quasi fotocopia studiati nei minimi particolari da banditi evidentemente non certo improvvisati. C'è un forte allarme nel mondo orafo a retino dopo l'ennesimo assalto andato a segno con un bottino di un milione di euro in un'azienda orafa che produce catename. Nell'arco di un anno i colpi sono stati quattro, ogni volta lo scenario è molto simile, strade ostruite con alberi, mezzi, addirittura vecchi frigoriferi, auto usate come ariete e casseforti saltate in aria. Tutto in una manciata di minuti. L'ultimo colpo alla Multiform a Quarata lo scorso 12 settembre, il tentato colpo alla Chini a Ponticino. Sempre a Ponticino venne presa di mira mesi fa la Jessica Jewels e a Castelluccio nell'ottobre del 2022 la Top Gold. Le indagini su tutti e quattro i casi sono condotte dai carabinieri della compagnia di Arezzo guidati da Silvia Gobbini. Gli inquirenti stanno mettendo insieme le testere di un puzzle per capire se dietro ai colpi ci sia la stessa banda o più di una. Nel frattempo è di poche ore fa l'appello della consulta orafaretina che per bocca del suo presidente ha chiesto al prefetto più personale delle forze dell'ordine, impegnato per tutelare questo settore, diventato ormai un obiettivo sensibile. Grazie.